Gentili telespettatori, buona giornata. L'estate militante della Schlein non è mai esistita, ma c'è l'estate militante di Fratelli d'Italia, che dal web va direttamente nelle spiagge a raccontare i primi mesi del governo Meloni. E ci vanno proprio degli esponenti di primo piano, come ad esempio Donzelli, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti, Lucio Malanna, al responsabile comunicazione Andrea Moi, presenti tra gli altri membri del governo, presidenti di commissione, deputati e senatori di Fratelli d'Italia. L'Italia torna vincente, lo slogan della campagna di Fratelli d'Italia presentata ad Ostia da Giovanni Donzelli. L'iniziativa si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 spiagge, giovani militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo, tutti tra gli ombrelloni per comunicare i primi risultati raggiunti dal governo. Non credo che i parlamentari andranno ombrellone per ombrellone a fare pubblicità. I parlamentari magari... Ma dove sono? Sono tutti militanti? Eh no, ci sono, ci sono. Va bene, dicono che parte del governo andrà ombrellone per ombrellone a spiegare, ma probabilmente saranno tutti militanti del partito. Si parlerà dell'aumento del lavoro, disoccupazioni ai minimi storici, con una crescita economica più alta di Francia e Germania, la fine dell'era delle mancette con l'arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l'aumento delle pensioni minime, la riforma del fisco amico con l'alleggerimento delle tasse, la riforma della giustizia, la maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record del turismo. Però ci siamo dimenticati di metterci anche il record degli sbarchi. Questo non è bello da mettere nell'opuscolo con i risultati del governo, perché il governo ha fatto, questi risultati che hanno raccontato ci sono, i risultati economici e sociali ci sono, però c'è anche un risultato, un altro record che è quello degli sbarchi, però quello forse è meglio ometterlo, vero? Così Fratelli d'Italia racconta la prima stagione del governo di destra e in queste spiagge andranno a comunicare gli importanti risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di governo. È un opuscolo, un pieghevole, chiamiamolo così, un pieghevole dove si parla dell'impegno del governo Meloni, nel quale tornano anche i cruciverba patrioti e questo me lo ricordo. Vi devo dire che in spiaggia, dalle parti di Ostia, mi avevano dato proprio questo, il cruciverba patriota, mi ricordo sto libricino, il cruciverba patriota dove c'erano proprio dei cruciverba da fare in spiaggia, con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura, dello spettacolo. E lo fa anche con dieci pillole social diffuse attraverso i social network. Dicono, erano tanti che scommettevano e scommettono contro l'Italia, dopo nove mesi di Meloni ha smentito tutti, mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare ogni giorno le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza Fratelli d'Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani, si legge in questo opuscolo, in questa brochure che sintetizza l'azione di governo in otto punti. E dicono questo è un modo semplice e leggero per raccontare ai cittadini la verità su contenuti dei provvedimenti del governo di centrodestra. Diciamo che oggi ci sono due problemi principali da risolvere in Italia. A parte che i fedelissi della Meloni ogni settimana ce n'è qualcuno che la spara grossa pensando di essere al bar, però a parte quello ci sono due problemi principali oggi in Italia. Il primo è quello degli sbarchi dei clandestini e il secondo è quello del lavoro povero. Sul lavoro povero venerdì si riuniranno maggioranza e minoranza per parlare di salario minimo o di soluzioni alternative al salario minimo. Vedremo se riusciremo davvero a portare fuori milioni di italiani dalla povertà lavorativa, almeno dargli uno stipendio degno. Quello sarebbe già un punto clamoroso, anche perché Meloni sa perfettamente che il suo elettorato, la maggioranza del suo elettorato è favorevole al salario minimo. La maggioranza degli italiani è favorevole al salario minimo, cioè in Italia tra il 70 e il 75% sono favorevoli al salario minimo, quelli che non lo sono sono con molta probabilità imprenditori che hanno dipendenti che sottopagano. Quel 24-20-24% sono persone che sono contro il salario minimo per dei loro interessi personali, ovviamente. E così questo problema è davvero alla portata di una soluzione. L'altro problema, quello degli sbarchi, è più difficile perché avete visto che il blocco navale subito non si è fatto e non se ne è più parlato. E quest'anno c'è il record degli sbarchi. Praticamente il record assoluto in Italia degli sbarchi. Sarà l'anno con più sbarchi in assoluto e questo per un governo di destra fare il record degli sbarchi non è proprio il massimo. Anche se non è colpa del governo di centrodestra ma è colpa di altre cose geopolitiche sta di fatto che arriva il governo di centrodestra e c'è il record degli sbarchi. Certo non è propriamente una presentazione fantastica. Speriamo che anche su quello ci sia un qualcosa, delle soluzioni. Vedremo se dalla Tunisia, dalla Libia realmente stanno tentando di fermare le partenze o hanno preso i soldi, come molti dicevano, prenderanno i soldi e poi chi si è visto, si è visto. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.